Chiudiamo come da tradizione con la Gazzetta dello Sport e il rompipallone di Gene Gnocchi, però quest'oggi sarà battuto Gene Gnocchi con la sua simpatia dai messaggi che ci stanno arrivando sulla questione tra Ibraimovic e Del Piero. C'è qualcosa tra loro, la battuta migliore però è quella del nostro Franco Grasso perché se avete l'occhio scrutatore notate che Del Piero è felice ma Ibra lo è ancora di più. Un piccolo giallo segnalato da tanti messaggi, complimenti per la cume e l'arguzia, il nostro Franco ha detto dopo il famoso uccellino di Del Piero, quello della pubblicità, c'è il falco di Zlatan Ibraimovic. Vedete voi se ne scorgete qualche cosa inerente il tema dei volatili su questa immagine che è stata pubblicata su tutte le prime pagine della Gazzetta dello Sport, il giornale più venduto d'Italia. Complimenti per questa scelta e complimenti soprattutto a Zlatan Ibraimovic, il rompipallone di Gene Gnocchi per chiudere, per fortuna non se la prende con Ibra che avrà già il suo bel da fare nella giornata di oggi. Moratti ha spiegato perché è sparito durante Inter-Atalanta, avevo lasciato acceso il gas a casa, poi purtroppo è arrivata mia moglie e me l'ha chiuso, insomma battutaccia sul fatto che siamo sponda Inter alla canna del gas. Da parte di Maurizio Socci è tutto, grazie davvero, buongiorno Marche, Rassegna Stampa torna, se ne avrete chiaramente piacere, domani mattina puntuale alle 7. Linea a Franco Grasso e a buongiorno Marche parliamo, restate con noi.